Andremo ad approfondire la sincope, ma andiamo a vedere prima la cartolina di introduzione. La sincope è una perdita di coscienza transitoria caratterizzata da un'insorgenza rapida, una breve durata e un recupero completo e spontaneo. Dobbiamo sottolineare che la definizione attuale di sincope si riferisce specificamente a quella dovuta ad ipoperfusione cerebrale globale, ovvero un ridotto afflusso di sangue al cervello. La sincope è nella maggior parte dei casi una condizione benigna, ma alcune volte può essere causata da patologie gravi. Ecco perché è fondamentale gestire la situazione in modo preciso e corretto. In molti casi un'anamnesi accurata riesce già a comprendere le cause, evitando di ricorrere a procedure diagnostiche e ricoveri non necessari. Presso l'Istituto Neuromed di Pozziglio operativa la sincope UNIT, che appartiene all'area funzionale di neurocardio-angiologia. E diamo il benvenuto a CAIA al dottore Alessandro Landolfi, responsabile sincope UNIT dell'Istituto Neuromed. Benvenuto a CAIA, dottore, buongiorno. Salve, buongiorno. Dottore, con lei oggi andiamo a parlare della sincope. Ecco, che cosa è innanzitutto? La sincope è una perdita improvvisa di coscienza che generalmente dura pochissimo tempo e la ripresa si ha generalmente appena ci si sdrai. Ed è, nella stragrande maggioranza delle volte, una sintomatologia non nefasta, ma una sintomatologia benigna. Accompagnata generalmente all'inizio da sudorazione profusa e abbassamento di pressione. Ecco, quali sono gli alert, dottore, se ce ne sono? Ovviamente per capire che possiamo avere la sincope. Qual è il percorso? Diciamo, i sintomi, come abbiamo detto prima, sono generalmente legati a questa forte sudorazione, giramenti di testa qualche volta, o forte astenia, cioè forte, praticamente forte debolezza. All'insorgere di questi sintomi bisogna fare delle piccole manovre, come stare in piedi tirando le braccia vicino a un muro, oppure basta stendersi e eliminare praticamente l'attività del vago, cioè l'ipertono vagale. Ecco, sono sintomi comunque che possono essere confusi per altre patologie, per altri problemi, no? Per chi non è esperto, come me, praticamente, che non sono un medico. Quindi dobbiamo iniziare a preoccuparci quando ci sono più episodi? Assolutamente sì, perché poi, diciamo, la peggiore situazione di una sincope è la caduta a terra e potrebbe essere anche, diciamo, il trauma legato praticamente alla sincope. E' chiaro che poi, però, questi eventi, se si dovessero ripetere in breve tempo, è chiaro che bisogna andare ad approfondire sia a livello cardiologico che a livello neurologico che a livello vascolare. Ecco, lei è impegnato molto nell'ambito della prevenzione, no? Proprio in questi giorni lei ha fatto degli screening proprio per sensibilizzare le persone a non sottovalutare in modo particolare la sincope e comunque a voler bene alla propria salute. Assolutamente sì, la prevenzione, al di là della sincope, diciamo, è la migliore medicina. Nella, diciamo, nella cura dei pazienti. Per quanto riguarda la sincope, chiaramente, già tenere sotto controllo i propri valori pressori, ossia, soprattutto nel loro resisto diastolici, bisogna tenerli in maniera adeguata. Cioè, parliamo di ipertensione quando i valori sono superiori a 140-90, ma parliamo di ipotensione quando i valori sono al di sotto dei 100 su 60. Generalmente, ecco, valori bassi pressori possono essere indici di fattori presincopali. Ah, ecco, quindi la pressione bassa, la cosiddetta pressione bassa, può essere già un campanello d'allarme. Assolutamente sì. Noi, nel corso ecco di CAIA, con voi in collegamento con gli esperti, abbiamo imparato, no? Che non dobbiamo sottovalutare la pressione, quindi periodicamente la misurazione dobbiamo farla. Soprattutto dopo i 30 anni è consigliabile, no? Possiamo dire, perché non si è più giovani. Ecco, come può essere prevenuta la sincope in modo particolare per chi soffre appunto di pressione bassa? La sincope può essere, chiaramente, saper riconoscere i sintomi e conoscere i propri sintomi previene sicuramente la sincope. Ed è questa sostanzialmente l'unica terapia, sia per quanto riguarda la sincope vasodepressiva che cardioinibitoria o quella mista. Diciamo, al primo sintomo basta applicare delle semplici manovre, come abbiamo detto prima, o il semplice di stendersi a terra e evita al 100% la perdita di coscienza e dunque poi la possibilità di crearsi qualche trauma. C'è una fascia di età in modo particolare che è più sensibile alla sincope o il genere maschile, femminile? Sostanzialmente è la fascia più giovane che tende a sincopare e c'è una prevalenza nelle donne rispetto all'uomo. Come mai, dottore? Nella donna poi subentrano tanti altri fattori legati al ciclo ormonale, al ciclo mestruale, che tendenzialmente nel periodo del pre o post mestruo possono innescare dei sistemi che possono dare ipotensione o anche lo stesso abbassamento del ferro può essere causa prodromica di eventi prelipotimici o presincopali. Dottore, l'Istituto Neuromed ha proprio attivo la sincope unit ed è importante, avete puntato molto anche su questa unità operativa. Ad oggi qual è stato l'approccio dei pazienti? C'è stata comunicazione e i pazienti hanno recepito l'importanza? Assolutamente sì, proprio oggi abbiamo fatto una disamina a un anno e più dall'apertura della sincope unit e ormai siamo diventati centri di riferimento per quanto riguarda il loop recorder in termini di diagnosi o di diagnosi, ossia di differenziazione tra una reale sincope cardioinibitoria o vasodepressiva. Perché spesso il tilt test non è dirimente per fare una diagnosi ben precisa. Ma a breve ci stiamo attrezzando con una nuova tecnologia per quanto riguarda il tilt test che grazie al collega Veltri che si occupa della parte strumentale sta mettendo a punto e in modo che da qui a breve riusciremo a dare maggiori e migliori informazioni e diagnosi ai pazienti che soffrono di tale patologia. Dottore, la sincope a familiarità può esserci questa, non so, in questo anno di unità operativa è emerso qualche elemento che possa introdurre il percorso della familiarità? Visto che parliamo di ipertensione e ipertensione. Sicuramente nelle vasodepressive c'è una sorta di familiarità legato soprattutto all'ipotensione però che ci sia una correlazione genetica, questa no, però di familiarità sicuramente c'è. Può guarire o si deve convivere con la sincope? Per guarire da un'attività, una aumentata attività vagale, la migliore terapia è quella dell'attività fisica, soprattutto quella di andare a camminare, ossia quella di cercare di abbassare quanto è più possibile l'attività adrenergica. Questa è la migliore terapia che si può avere per persone che soffrono di questi disturbi accompagnato ad una buona idratazione, bere almeno un litro e mezzo, anche due litri d'acqua al giorno nel periodo estivo e fare molta attività fisica. Approfittando della sua presenza, prima abbiamo parlato di pressione alta e pressione bassa. Spesso chi soffre di pressione bassa sottovaluta, pensa di essere meno a rischio di un iperteso. Non è così, è vero? Sostanzialmente la normopressione, che sono dei range dai 130-80 ai 110-70, questi sono valori ottimali per i pressori. È chiaro che anche l'ipotensione non fa bene agli organi, in quanto tende a far lavorare di più, anche il cuore stesso deve lavorare di più e anche i vasi dovranno lavorare di più e andando ad attivare quei sistemi, come il sistema vagale, in maniera negativa e non positiva. Perciò il controllo della pressione deve essere tenuto sotto controllo, sia per quanto riguarda l'ipertensione, ma anche per quanto riguarda l'ipotensione. Per il suo campo, per la sua branca di medicina, dottore, diamo qualche consiglio utile ai nostri telespettatori, proprio per quanto riguarda la prevenzione e gli screening, proprio nell'ambito neurocardio-angiologico. A che età bisogna fare i primi screening? Il primo approccio con il medico specialista? Il primo approccio con il medico specialista dovrebbe esserci. Io lo consiglio sempre per chiunque inizi a fare un'attività agonistica, un'attività fisica che possa essere sia agonistica che non agonistica, perché poi spesso da lì vediamo che si possono trovare delle patologie, ma la prevenzione viene fatta già in età pediatrica per i bambini e per poi arrivare anche all'età adulta. Non c'è un'età ben precisa per quanto riguarda il rischio cardiovascolare o cerebrocardiovascolare. Andrebbe fatto con i medici di famiglia, andrebbe fatto conoscendo la familiarità che ognuno ha in famiglia su patologie cerebrocardiovascolari. Però io dico sempre che chi inizia a fare un'attività fisica, il semplice elettrocardiogramma che si va a fare per avere l'idoneità per andare in palestra, da lì è un buono step per iniziare a fare prevenzione cerebrocardiovascolare e soprattutto per malattie che possono essere legate alla elettricità cardiaca. Dottore, in chiusura di questo collegamento, come si svolgerà le prossime settimane? Altri screening, altri controlli, altra prevenzione? Al momento no, però stiamo mettendo su più dei trials clinici internazionali per quanto riguarda sia l'ipertensione e sia lo scompenso cardiaco, perché poi in ambe due i casi spesso troviamo persone che hanno avuto perdita di coscienza e sono diventati ormai dei buoni metodi e mezzi per fare screening e prevenzione sui pazienti, dando un futuro farmacologico anche a chi verrà dopo. Grazie dottore per essersi collegato con noi a CAIA, di aver parlato in modo particolare di prevenzione e della sincope, quindi abbiamo compreso ancora di più quanto è importante prevenire e rivolgerci agli specialisti, agli esperti, qualora vediamo, ci sono, si verificano episodi ripetuti come la sincope e quindi è il caso di rivolgerci proprio allo specialista. Grazie ancora! Grazie a voi per l'informazione che date, grazie di cuore!